Abbiamo parlato della situazione in Italia nell'ultima parte del XIX secolo, situazione ricca di cambiamenti e criticità. Il nuovo secolo si apre infatti con l'assassinio del re Umberto I, fatto drammatico che evidenzia il clima di insoddisfazione generale del paese. Vediamo ora in breve che cosa stava accadendo negli altri stati europei. Ci troviamo di fronte ad importanti trasformazioni in diversi paesi, in particolare in Germania dopo le dimissioni di Bismarck il nuovo imperatore Gugliano II rafforza la militarizzazione del paese, mentre in Francia che dopo la sconfitta nella guerra franco-prussiana era diventata una repubblica, si verificano forti tensioni sociali, di cui un esempio è l'affare Dreyfus, militare dell'esercito di origine ebraica, ingiustamente condannato per spionaggio. La zona più preoccupante è tuttavia quella dei Balcani, riorganizzata con il congresso di Berlino del 1878, ma ricca di contrasti e spinte autonomiste. Bismarck aveva messo in atto una politica fortemente autoritaria, contrastandosi i cattolici troppo fedeli al Papa che i socialdemocratici, il partito a sostegno degli operai e puntando al rafforzamento della Germania in ambito europeo. Con il congresso di Berlino del 1878 infatti si era attuata la spartizione delle colonie tra le principali potenze europee, ma si è generata una situazione di grave tensione nei Balcani. Per contrastare la Francia, Bismarck stabilisce nel 1882 un trattato con Austria e Italia a scopo difensivo. Si tratta della triplice alleanza, seguita nel 1887 da un accordo di non belligeranza con la Russia. Quando nel 1888 sale al trono Guglielmo II, i contrasti con Bismarck, che è orientato ad una politica di equilibrio, si fanno evidenti e il cancelliere rassegna le dimissioni. La politica imperiale diventa così sempre più aggressiva e questo spinge Francia, Inghilterra e Russia a stipulare un'alleanza nel 1907, la triplice intesa. Con il congresso di Berlino del 1878, dicevo, si attua una nuova organizzazione nell'area dei Balcani. Romania, Serbia e Montenegro ottengono l'indipendenza dall'impero ottomano, mentre la Bulgaria diventa un principato autonomo. Bosnia ed Erzegovina ottengono invece di essere amministrate dall'impero austro-ungarico. Vi ho inserito in questa slide un riepilogo delle date più significative di cui ho parlato in questa breve lezione. Come vedete, ci stiamo avvicinando a grandi passi allo scoppio della prima guerra mondiale.